Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina! Oggi sono qua perché vi voglio farvi dire una ricettina, secondo me perfetta per l'estate, per stare freschi, ed è una bevanda, un succo che mi piace tantissimo, super rinfrescante e dissetante, che vi idrata, quindi fa tanto tanto bene per purificare l'organismo, ma anche per avere una bella pelle, e bei capelli perché è ricco ricco di vitamine, tante vitamine che fanno bene all'organismo, a sentire su, insomma, sapete questi cali di pressione che si possono avere un po' col caldo, magari uno sta fiacco, un po' stanco, perché no? Anche buon umore, perché le vitamine danno buon umore e vi tirano subito su, e poi aiuta anche a tenervi in forma, a sgonfiarvi, a depurarvi, useremo anche degli ingredienti anticellulite, un po' snellenti, brucia grassi, ovviamente non è che voi mangiate le patatine fritte, poi bevete questo succo e sperate di bruciare tutti i grassi, anzi, io non vi consiglio di berlo appena dopo i pasti, perché comunque è a base di frutta, e la frutta non la consumo mai appena dopo i pasti, perché comunque non può impedire una corretta digestione, ma vi consiglio di berlo o la mattina o il pomeriggio per merenda, ovviamente associato a qualcosa altro, insomma, anche qualcosa di mangioreccio, bevete questo succo ed è veramente ottimo, io lo sto adorando tantissimo, vi consiglio di provarlo, iniziamo subito. Gli ingredienti che ci occorrono sono veramente, veramente pochi, principalmente l'ananas, che ringrazio il mio amore, che l'ha tutta aperta e tagliata ed è buonissima, io l'adoro, e l'ananas appunto ha un potere anticellulite, brucia grassi, comunque risata tutta questa cosa, poi metteremo la papaya, che so che vi possa andare strano, ma è un frutto che si trova tranquillamente, e lo compro sul mercato, ed è buonissimo, guardate, è ricco di betacarotene, infatti arancione, ed è buono per fare il succo, ma anche da mangiare così, e poi metterò anche una manciata di cilige, che io sta amo e adoro, per dare un po' di dolcizza, perché ovviamente non andrò a aggiungere zucchero. In un frullatore ci vado a mettere l'ananas, dove ci tolgo questo qua, il torsolo, spero che si chiami, interno, così, vado a mettere qui dentro qualche fetta di ananas. Ho fatto diversi video di succhi, estratte, concentrifughe, estrattore, casomai vi lascio il link nei box informazioni se li volete vedere, e spesso mi dicevate, ma io non ho l'estrattore, non ho la centrifuga, e io vi dicevo, ragazzi, potete usare anche il frullatore, viene buono comunque, solo che vi viene semplicemente più denso, meno accuso, insomma, viene proprio un frullato invece che un succo, e proprio per questo lo sto facendo così, per dimostrarvi questa cosa, cioè che anche con il frullatore viene bene, vengono bene queste ricettine, se comunque lo volete fare con l'estrattore, la centrifuga potete farlo, ho messo quindi quattro fette di ananas, adesso metterò la papaya, è buonissima la papaya, contiene papaina, che è un ingrediente proprio ottimo appunto per tenersi in forma e per bruciare grassi, eccetera, è buonissimo, poi io lo adoro, comunque si toglie la buccia, si tolgono anche questi, un po' come il melone, questi sono gli ossicini, quindi vanno tutti, tutti tolti, la mia mezza papaya bella pulita, la vado a mettere a pezzettini appunto nel frullatore, una manciata di ciliegie che servono per dare dolcezza, ovviamente le dobbiamo andare a sbucciare, lavare e sbucciare, togliamo quindi sia gli ossicini che il questo qua, il ramettino, insomma, come si chiama, e ne avversare qua dentro, ecco è pronto, adesso non ci rimane che il frullare, guardate com'è denso, mi piace tantissimo proprio perché è un frullato, quindi è super denso, buonissimo ragazzi, io lo adoro veramente a un sapore così rinfrescante, però comunque allo stesso tempo dolce grazie alle ciliegie, vi volevo dire questa cosa, che se non avete le ciliegie, magari state guardando in questo video in un periodo dell'anno che non è stagione, quindi non ci sono le ciliegie, perché l'anas, la papaya ci c'è sempre, potete anche mettere, invece delle ciliegie, un altro frutto che vi dia dolcezza, ad esempio potete mettere la pera, che comunque è un frutto molto dolce, quindi qui va a dolcificare, oppure un po' di melone, anche un po' di mela, insomma, qualsiasi cosa che dia dolcezza all'anas, che è molto aspra, così non dovete aggiungere zucchero, ed è molto denso, però comunque esce dalla canuccia, cosa importante, a volte invece non esce, io mi nervosisco, invece questo esce dalla canuccia, se non volete fare un po' più liquido potete anche aggiungerci dell'acqua, quindi vi viene più a succo, però io vi consiglio di farlo così, così siete sicuri di bere solo frutta, 100% frutta, buono, nutriente, dissedante, rinfrescante, state in forma e vi fa tanto 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 bene, anche alla pelle, perché è ricco di vitamine, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto, se vi piacciono le mie ricettine sane, leggerne, naturali, facili e veloci, mettetemi tanti pollici in su, tanti like, così ne faccio subito subito un altro, io amo queste ricette per colazioni, merende sane, però comunque molto veloci, molto buone, saporite, che fanno tanto tanto bene, quindi spero tanto che vi piaccia, taggatemi le vostre foto su Facebook e su Instagram e vi mando un bacio grandissimo, ciao! Grazie a tutti! Ciao!